Quest'anno sappiamo bene che anche la musica è una forma d'arte, ma cimentarsi con la musica in età molto giovane non è facilissimo. Quest'anno abbiamo avuto la piacere e la sorpresa di vedere arrivare una composizione musicale originale che quindi riceve il premio per la stazione musica. L'autore è della scuola che ha parlato da Libera di Libera, di Casse Terza P. E qui con noi eseguirà lui la sua composizione ed è Giulio Piatto. Allora intanto c'è il premio, io vi dico la motivazione per cui vi ho dato questo premio. Sì, dai, un po' da ieri, un po' in fondo. Ecco, se appiglia... No, forse non è la mia che sta qui inserita da qui. No, non è la mia che sta qui inserita da qui. No, non è la mia che sta in casa, allora. Torna la mia che sta in qui. Poi direttiamo. Va bene. L'opera musicale si chiama La Brenta per il tipo Barcarola. Ispirandosi al poema sinfonico La Moldava di Belli di Smetana, appreso tramite l'ascolto guidato in classe, l'autore dedica questo brano al proprio paese, l'Imena, riscrivendolo attraverso tre temi. Una passeggiata lungo il fiume, la ripresa di un noto canto poporale, o Barcarola del Brenta, una danza immaginata sul prato della Marchessa durante una saga. L'ideazione e la composizione colpiscono per l'abbandonanza dei registri musicali e per la capacità di osservare e trasporre la realtà utilizzando la magia delle note. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.